Oh, 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 oh! E così, quando Sveva mi ha dato un milione per tenere i miei lady, ho capito subito che poteva essere una grossa occasione. Ma io non voglio vivere in un canile. E perché non mi hai avvisato? Avresti detto di no. Ma ti rendi conto? Il generale paga 15 mila lire al giorno e altrettante ne paga il gioielliere. Tu calcola di mettere assieme almeno 40 cani. Fanno 600 mila lire al giorno. Che detratte le spese forse non sono moltissime Ma certo sono abbastanza per vivere al castello con tutti i nostri amici intorno E io? Tu? Ah, tu avrai un futuro luminoso In un mondo che non sarà quello gretto meschino e borghese dei tuoi computer Ma quello aristocratico ed esclusivo delle ville che ci circondano Penso al principe Carlo e all'EDD O anche ai Kennedy quando vengono in Toscana Mai venuti ai Kennedy in Toscana? C'è chi con i cavalli ha guadagnato un posto in società E noi faremo lo stesso con i cani Orca, la cassetta L'iniziativa di mamma ebbe successo I cani arrivarono uno dopo l'altro E noi faremo lo stesso con i cavalli ha guadagnato un posto in Italia